E' una scuola completa, ti insegna ad avere rapporto con gli altri, a lavorare in gruppo, il fatto che ci siano più corsi e chiaramente ognuno molto specifico ti aiuta a dover trovare rapporto con gli altri. Poi va dal cinematografico al televisivo, che è un ampio raggio insomma su quello che poi sarà il lavoro poi al di fuori della scuola. Il primo anno è stato un primo anno propedeutico, quindi alcuni corsi teorici, alcuni più interessanti dal mio punto di vista, appunto perché non li avevo mai affrontati, come per esempio un corso di montaggio, un corso di produzione, e poi dopo mettersi dietro a pensare a una regia di un qualsiasi argomento. C'è bisogno di una formazione professionale molto tecnica, molto specifica, per riuscire a compensare quello che quell'università non ti dà.